Perché dopo tanti anni di stasi oggi in Italia si torna a parlare di nucleare? Dove? Nelle riviste scientifiche delle grandi agenzie internazionali per continuare a indicare il declino dell'energia nucleare. Perché il consumo di energia cresce in tutto il mondo, perché abbiamo problemi ambientali molto grossi, a cominciare dal problema di riscaldamento del pianeta, e il nucleare ha il vantaggio di produrre energia elettrica in grandi quantità, essendo completamente privo di emissioni in atmosfera. Le centrali previste sono davvero sicure? Questi impianti che si vogliono prendere in Italia di terza generazione sono migliori dal punto di vista ingegneristico, pompe, tubi, valvole, ma non dal punto di vista della fisica del reattore, che è il punto centrale per poter parlare di sicurezza in un modo nuovo e diverso. Nel G8, gli otto paesi più sviluppati al mondo, l'unico paese che non possiede centrali nucleari è l'Italia. Se andiamo sul lato opposto, Brasile, Russia, India, Cina, tutti hanno programmi nucleari. Vi pare che se non fossero sicure tutti questi paesi investirebbero nelle centrali nucleari? E che fine faranno le scorie? Si mettono provvisoriamente dove il provvisorio ci si renda conto dell'estrema pericolosità di questa parola per rifiuti che hanno la loro carica di pericolosità, non per cento anni, per centomila e anche di più. I residui nucleari sono trattati in tutto il mondo tranquillamente. Io ho una certa fiducia nel progresso tecnologico, non credo che quello delle scorie sia un problema grave. Penso che è un problema perfettamente gestibile e che la ricerca scientifica sicuramente troverà delle soluzioni. Non possiamo risolvere i problemi energetici e ambientali dell'Italia puntando solo sulle fonti rinnovabili? La strategia dell'Europa è entro il 2020 abbattimento del 20% dei rilasci di CO2 con 20% di risparmio energetico, 20% di ricorso alle fonti rinnovabili. È un'ottima, ragionevole strategia? Assolutamente no. L'energia rinnovabile più importante è l'idroelettrico che in Italia però ha esaurito le sue possibilità perché non c'è più acqua disponibile per produrre energia elettrica. Il vento oggi contribuisce per il 2%, il solare per lo zero punto qualche cosa. Non è pensabile che queste fonti di energia possano garantire le grandi quantità di energia di cui ha bisogno il nostro paese in maniera continuativa. Quanto costeranno agli italiani le nuove centrali nucleari? Alleggeriranno le nostre bollette? È una favola raccontata da gente non in buona fede, quella del basso costo dell'energia nucleare. Anche il solare fotovoltaico, quello che ha richiesto molta ricerca e ne richiederà ancora per migliorare e ottimizzare, ha superato, cioè costa meno del nucleare. Agli italiani non dovranno costare nulla, costeranno le imprese elettriche che le realizzeranno e che trarranno poi il recupero dei costi sostenuti e un utile aziendale dall'esercizio di queste centrali. Si tenga conto che oggi una centrale nucleare viene licenziata per un periodo di vita di almeno 60 anni, di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altra fonte energetica. L'investimento stimato, a seconda delle grandezze delle centrali, può variare tra i 3, i 5, i 6 miliardi per ogni centrale. L'industria italiana è in grado di partecipare al progetto nucleare? Penso che sarebbe molto meglio per questo Paese, invece di illudersi a inseguire il nucleare, concentrarsi in questi settori in cui già la ricerca italiana è ben presente. È stato valutato che circa il 70% dei lavori necessari a realizzare una centrale nucleare possono essere realizzati da imprese italiane. È vero che il cuore tecnologico invece oggi non è producibile in Italia, ci sono 3-4 grandi produttori al mondo. Dovremmo essere capaci via via di acquisire capacità tecnologiche sempre maggiori. Le nostre istituzioni hanno il fisico per affrontare una sfida così impegnativa? Ma soltanto la vicenda delle scorie a Scanzano è stato un misto di imbroglio-sotterfugio creando per il Paese un pessima precedente perché ora nel Paese chi si fida di istituzioni che hanno dato a vedere di essere così poco trasparenti? Il fisico va costruito. Se noi italiani continuiamo ad avere una scarsa considerazione di noi stessi non riusciremo mai ad affrontare sfide di questo genere. Io credo che non ci manchi nulla, anzi quello che ci manca è il coraggio di affrontare sfide di questo genere e costruirci la muscolatura adatta affrontando sfide di questo genere. Come saranno scelti i siti dove costruire le centrali? Oggi possiamo dire solo come saranno non scelti. In ambiente Euratom ci si ricorda che è ragionevole la scelta di un sito là dove un terremoto del quinto grado della scala Richter abbia un ritorno di non meno di 10.000 anni. Località di questo genere in Italia ci sono in Sardegna, in Salento, piccole parti ai confini tra Lombardia e Piemonte. In Italia non abbiamo problemi particolari, abbiamo 8.000 km di coste che vuol dire acqua a disposizione per il raffreddamento quanto ne vogliamo. Vorrei ricordare che uno dei maggiori produttori di energia nucleare è il Giappone, paese sismico e vulcanico per eccellenza, la California, altro paese sismico e vulcanico per eccellenza, quindi non vedo problemi particolari. E le opposizioni locali? Io non mi metto nei panni dei governanti, dico quello che stiamo facendo noi. Ormai in tutta Italia si è costituito un bel comitato scientifico in cui ci sono alcuni dei nomi più belli della fisica italiana, della ricerca italiana. Noi andremo a spiegare alle popolazioni quali sono i rischi, quali non sono i benefici, quanto sbagliata sia questa scelta. Io penso che risolveremmo quasi tutti i problemi se fosse possibile portare ogni cittadino italiano a visitare una centrale nucleare in Francia, in America, ad incontrare le comunità che vivono intorno a queste centrali per vedere che non solo non c'è alcun rischio, alcun problema, ma la presenza di queste centrali ha portato sviluppo, benessere. Lancia un messaggio a Evedroidi. Sono molto felice di poter dare un piccolo contributo alla vostra riunione. Sono sicuro che con voi le cose andranno un po' meglio che con il ministro Scaiola. Mesi fa, con tanti colleghi qui della Sapienza, mettemmo a punto dei dossier da cittadini da presentare al ministro, ma il ministro non l'abbiamo mai incontrato. Sono sicuro che il vostro lavoro sarà più disponibile alle nostre argomentazioni e dunque buon lavoro a tutti. Care amiche e amici di Vedrò, l'energia è forse la questione più importante di una moderna società. Senza energia non si può fare praticamente nulla, nemmeno queste interviste evidentemente che sto realizzando in questo momento. Rimango sempre stupito dal divario che è constato tra l'importanza di questo tema e la scarsa conoscenza che se ne ha. Quindi il mio messaggio e il mio invito è molto semplice. Studiate, studiate, studiate i problemi energetici. Ciao.